Ciao, sono Edda. Allora, oggi volevo parlare di una cosa che ci tengo tanto comunque a far sapere di noi ragazze e di noi donne. Allora, a me piace tantissimo, una cosa che piace tantissimo fare è truccarmi per uscire la sera, quindi mettere il rossetto, il fard, l'eyeliner, il rimmel, truccarmi bene e vestirmi bene, quindi un po' appariscente con una bella scollatura, un abitino come questo, la minigonna, le calze velate o arete oppure anche senza, un bel abitino. Con, oppure anche se sono nella giusta compagnia anche senza slip e mi piace andare a ballare e poi chissà se appunto quando vado a ballare e vado in discoteca comunque con un bel trucco, con un bel abitino, un bel tacco elegante ma molto sexy e appariscente ma non volgare, mi piace tantissimo andare a ballare. Poi se conosco diciamo un ragazzo che mi può piacere, carino e comunque sono singole e mi voglio divertire e se con questo ragazzo mi piace poi ci posso uscire e magari può succedere qualcosa di più. Ci possiamo divertire, soprattutto adesso poiché sono anche single, se capita l'occasione con il ragazzo che mi piace, carino, simpatico, può accadere qualcosa di più.